benvenuti a tutti a questo nuovo video che vedete dal titolo sostituire windows con ubuntu non ci manca nulla tratta un tema un po tormentone che ogni tanto torna e ritorna sui vari siti e torna e ritorna anche la voglia anche da parte mia ogni tanto di fare il punto della situazione in questo ambito ovvero l'eterno come dire dilemma o dibattito sul fatto di abbandonare windows sino completamente sino ma ubuntu mi permetterà poi di far tutto quello che sono abituato a fare con windows sino sarà facile o meno da usare sino eccetera eccetera ecco così diciamo che in questa primavera 2014 è venuto lo sfizio di registrare un video su questo tema questo perché perché appunto passano gli anni e almeno per quanto secondo la mia opinione ecco per quanto mi riguarda almeno per le esigenze di quella che io amo chiamare utenza domestica o comune insomma quello il pubblico del mio canale insomma il pubblico di non tecnici ma di fruitori della tecnologia di utilizzatori quotidiani o meno della tecnologia ecco che per me siamo giunti ad un punto che ci permette di tranquillamente sostituire windows senza alcun problema almeno questa è l'esperienza che ho io poi magari ho delle esigenze così limitate ridotte che per me non è un problema magari altri hanno altre esigenze diverse e trovano ancora problematico un passaggio da windows ad ubuntu non lo so o a linux altre distribuzioni in generale per quanto mi riguarda la mia personale esperienza sono dieci anni che è nato ubuntu nato nel 2004 praticamente sono dieci anni arriverà l'autunno ottobre novembre 2014 saranno effettivi dieci anni io sono dieci anni che ho adottato linux ma non ho mai rimpianto il passaggio ecco non ho mai avuto delle mancanze o delle carenze in ubuntu tali da farmi rimpiangere l'avere abbandonato windows ecco questa quindi è il mio personale punto della situazione e mia personale opinione che appunto per delle utenze normali quindi non non professionali sicuramente il passaggio secondo me attualmente è assolutamente indolore ci vuole solo quel pizzico di curiosità quel pizzico di perseveranza nel cambiare le abitudini di utilizzo del testo ma poi per il resto secondo me non c'è nessun problema a cambiare un sistema operativo con un altro può essere in parte di feri diverso il discorso per l'utenza professionale a dipendenza degli ambiti e ambiti intendo che ne so il multimediale la grafica l'ingegneria l'architettura ambito scientifico ricerca scientifica che ne so editoria ecco tutti questi ambiti qui si può discutere ambito per ambito però secondo me anche in ambito professionale a dipendenza dell'ambito secondo me non c'è nessun problema ad abbandonare windows o per quel che vale anche mac e puntare su ubuntu una distribuzione preferita di linux anche in ambito professionale a dipendenza dell'ambito appunto è quindi andiamo avanti e vi dico che tra pochi istanti inizierò a elencarvi semplicemente dei software che sono paragonabili nelle funzionalità o che possono sostituire completamente dei software ai quali siamo abituati in ambito windows soprattutto e però quelli che vi cito cioè non però quelli che vi cito saranno tutti non a pagamento ovvero gratuiti oltre ad essere open source a codice aperto appunto non richiede nessuno dei software che vi elencherò fra un attimo richiede un pagamento di qualsiasi entità e ho volutamente appunto tralasciato software con licenze a pagamento anche se noti e disponibili per linux perché non è errato associare linux alla gratuità completa e costante ci sono per esempio software come il recente nuovo arrivato fra nell'ambito dei video editor lightworks che è assolutamente professionale usato a hollywood non c'era per piattaforma linux fino a non molto tempo fa ora è arrivato però chiaramente un software professionale ed è a pagamento anche per linux ci sono anche le piattaforme di gioco come steam o humble bundle che sono a pagamento poiché siano più o meno alti i prezzi di pagamento un altro discorso però sono tutti software che girano in ambito linux e sono a pagamento né più né meno che fossero sotto windows o mac ecco quindi per intenderci ho evitato nell'elenco che segue nella mia scaletta software di questo tipo che comunque esistono per linux basta pagare esistono e altra precisazione mi raccomando non prendete per l'elenco che vi mostrerò appunto fra poco non prendetelo come fosse un elenco esaustivo e completo e non era lo scopo di questo video creare un elenco appunto esaustivo e completo di tutte le opzioni che esistono nel mondo linux dei vari software per i vari ambiti i vari compiti non era questo il mio scopo quindi non come dire evitate eventualmente di commentare se volete farlo questo video con commenti tipo hai tralasciato peccato che hai tralasciato questo e questo come mai non è messo questo quest'altro perché lo so perché lo so già io ve lo dico già io che non è un elenco sicuramente un elenco completo ma se mai vi invito a commentare nel senso di completare l'elenco ecco non come una critica nel dire peccato che tralasciato questo ma mettete se volete nel commento guarda aggiungo a questa categoria anche questo e questo software che io conosco che io uso e che funziona benissimo per esempio ecco quindi commenti come dire che aiutano completare quanto io vi sto mostrando in questo video ecco in questo senso intendevo è quindi sicuramente un elenco completo non lo è quello che vado a presentarvi ma è semplicemente un come dire un estratto delle varie possibilità che esistono nel mondo linux per far capire pubblico che seguirà questo video che appunto non ci manca nulla per svolgere gli stessi compiti che già si facevano quando si usava windows o quando tuttora qualcuno sta usando windows e svolge determinati compiti con questo elenco grazie a questo elenco spero di potergli mostrare che comunque nei vari ambiti più ambiti più importanti in cui si usa un pc a casa propria o per proprio divertimento esiste comunque una o più alternative anche sotto linux allora vediamo un po' ambito ufficio è io ho parlato di pc personale per uso casalingo domestico e divertimento però ho voluto anche citare un ambito ufficio non nel senso di lavoro professionale in ufficio ma anche a casa si deve pur fare che ne so della contabilità un documento una lettera dei calcoli ecco insomma tutto quanto quindi partiamo subito ecco in questo video non è che presento come funzionano i singoli software gli elenco semplicemente vi lascio anche un riferimento web così potete approfondire la conoscenza dei software che io vi cito qui e quindi sarà semplicemente la presentazione di un elenco di software ma non ovviamente delle caratteristiche dei singoli software sennò questo video durerebbe un mese allora word microsoft word l'editor di test ovviamente ecco che un'alternativa validissima se non migliore in determinati ambiti è libreoffice il modulo writer di libreoffice che tra l'altro per esempio in ubuntu ma sicuramente anche in altre distribuzioni arriva già installato quindi quando voi installate ubuntu installazione nuova vi ritrovate già installato writer quindi non dovete ulteriormente installarlo voi questo è il riferimento al sito di libreoffice potete andare ad informarvi e i documenti office originali doc doc x si possono aprire in libreoffice writer quindi ci sono dei filtri dei moduli che permettono di interagire con questi formati vi ricordo proprietari di war non sono formati aperti questi e inoltre a partire da microsoft office 2010 vi rammento che finalmente è possibile salvare direttamente anche nel formato open document direttamente quello col quale lavora nativamente libreoffice quindi odt per quanto riguarda i testi francamente non so dirvi se la qualità di questa funzione è completa o meno se buono o meno a questa esportazione questo salvataggio in questo formato comunque se non altro microsoft non so se dire ha ceduto o si è convinto o l'hanno convinta finalmente ad introdurre anche questa opzione di salvataggio quindi quando voi lavorate in microsoft office dal 2010 in avanti potete salvare ovviamente nei formati nativi di office doc o doc x ma se scegliete dalla tendina dei formati di salvataggio troverete anche odt open document quindi il formato aperto dei documenti che è usato da libreoffice stessa cosa vale per excel il corrispondente il modulo calc di libreoffice qui vi lascio sempre il riferimento i documenti anche qui xls xls x possono essere aperti e anche qui c'è la possibilità di salvare nel formato open document ods corrispondente per i fogli di calcolo powerpoint stessa cosa c'è il modulo corrispondente impress di libreoffice anche lui già installato nel sistema stesso discorso per gli altri moduli i formati ppt e ppt x possono essere aperti in libreoffice e anche qui c'è la possibilità di salvare nel formato corrispondente open document ecco quando dico possono essere aperti ppt e ppt x diciamo che vengono aperti probabilmente allo stadio attuale con buon successo ecco sono solo i documenti stra stra complicatissimi probabilmente hanno ancora dei problemi i filtri di libreoffice ad aprirli e mostrarvi documenti esattamente come li vede come li vedreste in microsoft office ecco possono esserci dei problemi qua e là che non vengono presentati esattamente nella stessa forma però da quello che mi si dice non ho tanto che fare con questi formati office col mio libreoffice quindi non ho tante esperienze però da quello che si dice si legge sui siti sono di versione in versione migliorano sempre più questi filtri di importazione di apertura dei documenti office originali e quindi c'è una buona probabilità che se qualcuno vi manda per mail o vi passa su una pennetta usb dei documenti creati con microsoft office riusciate ad aprirli in una forma più che dignitosa nel vostro libreoffice quindi non c'è più questo blocco questo problema di interscambio di documenti meglio ancora se dite a chi vi manda il documento di salvarlo già direttamente nel formato open document dalla sua postazione windows con microsoft office meglio ancora adesso che si può perché no microsoft visio il diagrammatore se è necessario creare dei diagrammi degli schemi c'è una prima possibilità che vi cito è dia che è un diagrammatore open source ovviamente che permette di creare diagrammi carini non è a livello di visio evidentemente però magari ha già tutto quello di cui avete bisogno visio veramente mostruoso e sono sicuro che nessuno ha mai usato tutte le sue potenzialità dia probabilmente più che sufficiente per il 95 per cento delle necessità e ancora una volta entra in discussione libreoffice perché perché ha il suo modulo draw quindi di disegno che di recente con le ultime versioni permette anche di aprire i file originali vsd creati con microsoft visio creati con varie versioni credo fino alla 2010 non sono sicuro ma comunque anche versioni recenti di microsoft visio salvisio salva in questo formato punto vsd e voi potete prendere questi file originali di visio aprirli in libreoffice draw che è una delle introduzioni più recenti questi nuovi filtri di apertura di questi file di visio quindi anche qui non c'è più questo blocco di dire io lavoro tanto in visio come faccio se abbandono windows e microsoft visio come faccio è possibile importare questi file in libreoffice draw e quindi voilà vedete che la situazione è buona ecco poi access microsoft access o perché no file maker un po il concorrente di access se vogliamo livello di banche dati non voglio dire domestiche per carità sono usate anche in ambito professionale però sono banche dati diciamo non so come dire non così aziendali come altre banche dati ecco preferisco distinguerle così ecco non hanno niente magari nelle funzionalità da invidiare ad altre però non sono da considerare meno io non me le sento aziendali come altri tipi di banche dati però fatto sta che queste sono anche alla portata dell'utente domestico ecco altre banche dati non è così evidente queste sì basta che compriate i pacchetti e ve li installate a casa vostra comunque ci sono alternative anche qui in primis il omnipresente prezzemolino via omnipresente prezzemolino libreoffice con il suo modulo base che questo così come draw al contrario dei moduli precedenti non è già installato per difetto in ubuntu ma sia draw che base dovete aprire l'obuntu software center e installarveli se li avete bisogno comunque liberoffice base è quello che più si avvicina come struttura e modalità di lavoro ad access e probabilmente file maker l'ho visto pochissimo io forse nelle ultime versioni anche a file maker ecco non l'ho mai usato direttamente però liberoffice base sicuramente che ha anche può essere accompagnato ecco se vogliamo da questo progetto open source che offre la possibilità di accedere a database creati con microsoft access quindi non file maker microsoft access senza necessità dei driver odbc che invece sotto windows sono pane quotidiano ecco quindi vi lascio il link anche di questo progetto potete andare a vedere fino a che versione sono gestibili fino a che versione di access sono gestibili che so access 97 2000 2003 2010 quello che è comunque questo you can access è un progetto che appunto permette di cre installare un driver un qualcosa di alternativo ai driver microsoft proprietari udbc per accedere a dei database access creati appunto sotto access e usarli per esempio accedervi via liberoffice base per esempio poi fine print credo che in ambito aziendale di ufficio soprattutto tutti o quasi tutti o molti conoscano abbiano già sentito parlare di fine print la stampante virtuale che permette tra l'altro di risparmiare molta carta perché permette di visualizzare le stampe prima di crearle effettivamente realmente su carta ecco fine print ha una sua alternativa già un'ottima alternativa nel mondo linux finalmente arrivate si chiama bumaga ecco la copiata bumaga più coups pdf permette di ottenere di avere a disposizione buona parte delle opzioni che fine print ad oggi mette a disposizione degli utenti non ancora tutti ma sta crescendo il progetto bumaga non vi dico di più a parte lasciarvi il link del sito del progetto bumaga perché se volete vedere tutti i dettagli di bumaga e coups pdf vi rimando al mio altro video con questo titolo bumaga la gestione delle stampe che ho già pubblicato in precedenza quindi probabilmente se seguite questo video avrete già avuto modo di vedere di visualizzare il video su bumaga quindi sapete di cosa sto parlando chi invece è capitato sul mio canale di recente e sta guardando questo video per primo sappia che non dico niente di più su questo bumaga alternativa di fine print perché c'è il video dedicato poi dopo l'ambito ufficio passiamo all'ambito multimedia grafica quindi altro ambito tipico casalingo che ne so non fosse altro che per riorganizzare le fotografie delle vacanze si entra in questo ambito microsoft silverlight ecco è morente o non morente un po come adobe flash ma purtroppo per alcuni siti abbiamo ancora a che fare con questo famigerato plugin proprietario di microsoft per gestire i video integrati nei siti web ecco microsoft silverlight non ha l'alternativa open source non ha l'alternativa nativa linux ma grazie a un progetto open source che si chiama pipelite possiamo usare proprio silverlight stesso quindi l'originale di windows possiamo installarlo via pipelite e via insomma tutta una tecnologia che si sta dietro via il progetto wine che è lo strato di compatibilità fra il mondo linux e il mondo windows eccetera eccetera non andiamo troppo nei dettagli tecnici in questo video perché non è il caso fatto sta che il succo è che via questo progetto open source di cui vi lascio qui il link della pagina principale è possibile installare in qualsiasi browser nel vostro ambito o sistema operativo linux che sia firefox che sia chrome chromium voi potete usare il plugin microsoft silverlight originale di microsoft e funziona egregiamente vi assicuro io l'ho installato qui nel mio chromium vedete qui il browser aperto qui sullo sfondo con la pagina l'home page di ubuntu in italiano e vi assicuro che funziona egregiamente funziona egregiamente quindi i siti con silverlight sono coperti non siete bloccati non dovete usare per forza windows per magari perché avete bisogno di usare tutti i giorni quindi un certo sito che usa silverlight siamo coperti anche qui stessa cosa per adobe flash adobe flash addirittura pur essendo morente anche lui in favore finalmente di html5 che ad oggi che sto registrando il 12 marzo 2014 questo video posso dirvi che finalmente sia youtube sia vimeo sia altri ma due dei più famosi siti di video di pubblicazione video vimeo e youtube finalmente sono passati integralmente o presumo quasi integralmente ad player html5 non usano più adobe flash ecco quindi l'ho constatato poche settimane fa vimeo è passato completamente di sicuro e youtube constato che anche i video con la pubblicità integrata finalmente funzionano con il player html5 non più con adobe flash quindi presumo che finalmente anche google sia passata a favorire questo player senza aver bisogno del plugin flash fatto sta però che ancora numerosissimi sono i siti che usano adobe flash ecco magari non quelli più importanti che ne so non so magari a voi capita che dobbiate usare un certo sito che è ancora tutto in adobe flash abbiamo due opzioni per adobe flash uno è via lo stesso progetto pipelite che potete usare il plugin adobe flash originale per windows anche nel vostro browser linux sotto linux nello stesso modo di silver light potete usare adobe flash originale di windows e anche qui vi lascio gli stessi estremi del progetto pipelite perché è esattamente la stessa cosa pipelite gestisce silver light flash e anche altri plugin più particolari più specifici nativi di windows originale di windows li potete usare via pipelite tipo mi sembra unity 3d che è un plugin browser per giocare in una piattaforma di gioco di sviluppo dei giochi anche quello c'è un plugin per windows e potete usarlo in ambito nel mondo linux via pipelite anche quello per esempio e altri ancora se andate qui sul sito del progetto pipelite vedete quanti plugin originali di windows potete se avete la necessità usare attraverso pipelite direttamente nel vostro browser quindi adobe flash una opzione è via pipelite l'altra opzione è usare il plugin pepper flash di google che voi sapete che o credo che sappiate che adobe non sviluppa più flash nella versione linux da tempo ormai credo da più di un anno non lo sviluppa più quindi la versione si è fermata una 11.2 o qualcosa del genere e da lì non va più avanti mentre sotto windows e mac va avanti la versione e quindi restando indietro la versione ci sono problemi di sicurezza e di funzionalità naturalmente e non è appunto come dire sotto linux non esiste più il plugin di flash diciamolo pure perché usare quello vecchio comporta determinati rischi e funzionalità che magari non sono più supportate o non ancora supportate in siti più recenti e allora google non so se ha fatto un accordo con adobe o se è messo d'accordo che ne so io comunque ha creato il suo progetto pepper flash che porta avanti lo sviluppo del plugin per il suo browser chrome e solo per chrome e lo porta avanti e permette di usare appunto il plugin di flash aggiornato anche nel mondo linux ma esclusivamente per il suo browser chrome questo progetto pepper flash ho già spiegato in un altro video come fare si può usare naturalmente anche in chromium che è il fratello insomma ecco di chrome anche qui ho creato un video per far capire la differenza tra chrome e chromium eccetera eccetera comunque tramite un repository ppa eccetera con con poche operazioni veramente molto semplici si può adeguare l'uso di questo integrare l'uso di questo plugin di questo progetto per usare il plugin aggiornato di adobe flash anche in chromium quindi chrome e chromium chi usa questi due browser può avere a disposizione tranquillamente e sempre aggiornato il plugin di adobe anche in ambito linux poi browser ecco internet explorer lo cito perché per difetto sotto windows microsoft il suo browser è internet explorer non che sotto windows lo usino in tanti insomma se uno appena può usa perlomeno firefox o ancora meglio chrome o addirittura chromium ecco però va bene le alternative ovviamente manco a dirlo qui le conoscono tutti firefox chrome chromium di cui firefox per esempio allo stato attuale finora in ubuntu firefox ancora il browser installato per difetto quindi ve lo trovate già installato e chromium è la classica alternativa che potete installare io per esempio ormai ho fatto l'abitudine usare chromium non uso firefox quindi installo chromium e lo sostituisco firefox vi lascio anche qui i riferimenti se volete approfondire un po di dettagli su firefox e chromium e poi ovviamente ci sono anche altri browser ecco come ho detto questo come ho detto all'inizio del video questo non è un elenco esaustivo di tutte le opzioni che ci sono le alternative ai prodotti microsoft o comunque proprietari ma volendo citare per esempio nell'ambito dei browser ovviamente ci sono anche opera epifani midori recon che ci sono decine di alternative però i più diffusi più conosciuti firefox chrome chrome li ho citati per conto loro poi elaborazione di foto immagini in stile o in ambito adobe photoshop chiaro per intenderci ecco il classico gimp naturalmente non poteva non essere citato perché seppur con una certa lentezza perché al progetto non partecipano in tanti sviluppatori però migliora di versione in versione si avvicina sempre più diciamo così ad avere delle funzionalità simili uguali e in alcuni ambiti anche migliori di adobe photoshop chi è professionista vi dirà comunque che non c'è paragone eccetera eccetera però ripeto io sto parlando di utenza domestica quella che magari non fa niente di più che togliere gli occhi rossi dalle foto ecco quindi già lì cimpe troppo figuriamoci adobe photoshop ci sono anche prodotto di gestione delle immagini già preinstallato in ubuntu che si chiama shodwell che fa già quello senza necessità di gimp chi vuole qualcosa di più per elaborare foto immagini colori in qualcosa di un po più diciamo pure più professionale più impegnativo gimp è l'ideale elaborazioni video tipo sony vegas adobe after fx eccetera eccetera ecco qui anche qui ci sono diverse alternative che vi cito qui semplicemente per nome open shot ptv flow blade k den live o k den live non so live shortcut eccetera eccetera ce ne sono anche altri più o meno validi più o meno completi ecco se parliamo però di confronto con sony vegas o adobe after fx o altri probabilmente i candidati migliore a diventare le alternative vere sono i primi due secondo me e k den live forse in ambito kde ecco questi tre ecco credo di poter mettere sul podio questi tre ptv non ancora attualmente ma ci stanno lavorando fortemente per arrivare a fare il balzo di qualità open shot dovrebbe essere più vicino a rilasciare la versione anche lui che fa il balzo di qualità e k den live è uno dei più noti ecco in ambito kde che dovrebbe essere il più avanti dei tre al momento però ecco mi sento di poter dire che sul podio sono questi tre ottimi candidati grafica sia 2d che 3d tipo maya cinema 4d 3ds max eccetera o altri strumenti di grafica 2d per creare che ne so i fumetti disegni animati di 2d ecco quelle cose lì sicuramente non c'è dubbio blender è addirittura anche a livello professionale è un prodotto complesso è perché non è nell'ambito non è programmino così è come tutti i prodotti di grafica tridimensionale sono complessi da usare se non si è dentro nella materia hanno moltissime opzioni questi questi strumenti quindi mi sento di poter citare blender sicuramente a colpo sicuro desktop publishing tipo microsoft publisher page plus eccetera cioè quei prodotti che permettono di creare dei come dire dei prodotti professionali per pubblicazione opuscoli libri e qui in questo ambito c'è scribus che sicuramente la fa da padrone come alternativa ai prodotti proprietari e a pagamento scribus che personalmente lo confesso non l'ho mai usato so che esiste è il classico prodotto di desktop publishing quindi citando desktop publishing non si può fare a meno di pensare a scribus in ambito open source e linux grafica vettoriale per chi la fa ecco qui odio sto parlando di utilizzo casalingo di utenza comune del pc forse grafica vettoriale siamo un po in là però uno che è un po un artista o che ha ambizioni d'artista potrebbe trovare utile un'alternativa ad adobe illustrator quindi la grafica vettoriale e qui la come scribus la fa da padrone qui qui è inkscape che indubbiamente è il candidato a farla da padrone inkscape progetto open source di grafica vettoriale ottimo in ambito audio abbiamo per esempio qui ci sono anche prodotti decisamente professionali è come rose garden hard door io non sono un musicista quindi me ne intendo poco è mi affido ai nomi è quello che leggo in rete audacity ardo rose garden l mms sono solo alcune alternative dei numerosi prodotti di gestione dell'audio ma non dell'audio del pc delle casse proprio del delle tracce audio delle registrazioni delle degli strumenti della delle composizioni di musica digitale elettronica eccetera intendo in questo senso gestione audio multimediale e ci sono decisamente prodotti appunto anche a livello decisamente professionale sono tutti prodotti a costo zero e open source ma questi sono ovviamente ottimi quindi chi è dell'ambito sicuramente ne sa più di me io li cito così per carità ammetto la mia ignoranza in materia comunque ce ne sono e tanti di prodotti buoni poi c'è ancora l'ambito cultura e divertimento e scambi sociali se vogliamo mettere così io lo messi sotto questo cappello metto cosa gli book quindi lettori di book a posto dei vari kindle che ne so io abbiamo un fantastico programma che può essere discusso sull'eleganza dell'interfaccia però non discusso sulle funzionalità calibre è il protagonista in ambito e book digerisce tutti i formati c'è anche la possibilità di interfacciarsi con il vostro smartphone android per la libreria di scaricare dal pc sul telefono di poter importare sul telefono i libri da leggere in altri applicativi ci sono dei plugin che si interfacciano con calibre via web via un indirizzo web andate a vedere il sito di calibre perché veramente molto 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 potente completo questo programma è e a parte i libri protetti da drm disgraziatamente quelli dei diritti digitali insomma quelli che proteggono il copyright questi libri ovviamente calibre essendo un prodotto open source nato nel mondo aperto non digerisce questi libri e ricordate quindi libri non protetti da drm poi il chattare l'instant messaging eccetera eccetera preinstallato nei sistemi per lo meno ubuntu c'è già installato empathy che può utilizzare diversi formati standard di messaggistica e di chat eccetera eccetera oppure c'è anche pigeon o x chat eccetera solo per dare alcune alternative in questo ambito qui i vari riferimenti che vi lascio reti sociali quindi gestione dei vari interazione con i vari twitter google plus o plus facebook eccetera eccetera c'è attualmente l'opzione guibber oppure friends che dovrebbe essere la nuova come dire il sostituto di guibber per la nuova unity che seguirà la nuova unity 8 che andrà anche sui telefoni eccetera eccetera ecco dovrebbe essere guibber barra friends ho messo come riferimenti e siccome qui bisogna ho messo anche una nota perché è pur vero che in questo ambito con questi reti sociali tutto è sempre portato più sul web diciamo che anche se non ci fosse un applicativo specifico da installare sul pc per gestire queste reti sociali ci sono delle ottime interfacce web alternative web per queste twitter google plus facebook eccetera tutte tutte queste reti sociali hanno comunque un'interfaccia web per interagire non è diciamo indispensabile comunque avere un prodotto un programma specifico installato non è più necessario così come la stessa cosa vale per i client email per gestire i vostri mail c'è già preinstallato nei sistemi ubuntu thunderbird quindi se avete necessità se siete abituati se dovete usare un client email c'è un ottimo della famiglia di firefox e di mozilla stesso progetto thunderbird è un ottimo gestore di email ma anche qui devo pur dire che gli email i sistemi email gestiti su web sono sempre più efficaci efficienti e sempre più simili ai programmi specifici quindi si sente meno l'esigenza di avere un programma specifico di email installato rispetto a usare direttamente l'email sul web poi l'ambito gioco è naturalmente non potremmo concludere con proprio l'aspetto ludico puro anche qui ci sono degli ottimi intelligenti e divertenti nello stesso tempo giochi completamente liberi open source e senza costi come mine test che è l'alternativa a minecraft 0 ad che è un gioco di come dire di storico ecco che che mette a confronto popoli antichi tipo romani o ancora più antichi dei romani gli egiziani eccetera eccetera permette permette di combattere fra villaggi di civiltà antiche ecco molto carino anche questo poi qui ci sono due link che ho aperto qui che vi elencano fra gli altri questo 12 giochi completamente open source e liberi qui potete vedere i vari altre alternative libere di giochi di tutti i tipi e un altro link con ulteriori 5 giochi completamente liberi alien arena eccetera eccetera insomma per categoria di gioco potete vedere non so quali siano i giochi che piacciono più a voi o meno comunque ce ne sono un po per tutte le salse da semplicissimi giochi che ne so mi sembra di aver visto tipo ecco questo qui 2d tipo che non ha profondità i classici giochi 2d poi ci sono quelli in 3d con la prospettiva quelli che si spara insomma dunque ce ne sono tanti a pagamento quelli di corse delle macchine eccetera eccetera ecco questi qui sono tutti liberi vi lascio anche questi link che vi permettono di avere un po' una panoramica ecco notte conclusive ovviamente tutto quanto abbiamo visto senza mai scordare che non solo abbiamo delle alternative ai programmi a pagamento di windows o magari non a pagamento ma comunque a codice chiuso proprietario di windows ma rispetto a windows ma anche a mac solitamente gli ambienti linux desktop sono estremamente configurabili ovvero li potete modificare a vostro piacimento e a vostro piacere il vostro desktop mentre sotto windows e mac non è così scontato cambiare le opzioni ecco le opzioni delle varie parti del vostro desktop quindi questo non bisogna mai scordarlo che in regalo oltre ad usare un sistema aperto c'è anche un'estrema configurabilità possibile che non è così scontata in altri ambienti desktop in altri sistemi operativi e oltre a quanto elencato qui sopra e questo è ovvio però lo dico ugualmente ci sono ovviamente altri programmi già installati nel sistema per esempio Ubuntu in questo caso che ci permettono di gestire varie cose tipo che ne so la collezione musicale piuttosto che quella di fotografie piuttosto che un semplice blocco note una calcolatrice di tutto quanto in genere anche gli altri sistemi operativi hanno almeno come dotazione minima all'installazione qui c'è di tutto e di più anche in ambito linux ovviamente non è che manchino queste cose che diamo per scontate ci sono e come quindi non si deve scordare nemmeno questo che io qui ho citato delle alternative particolari specifici prodotti ma ci sono anche quelli di uso comune appunto tipo la calcolatrice non è che manca ovviamente ecco e poi cos'è come nota finale un po' così senza far polemiche per carità però se tutto quanto detto finora non è riuscito a incuriosirvi a convincervi che finalmente è ora di mollare sto benedetto Windows ho trovato anche questo sito un articolo dove spiega senza tanti giri di parole le cinque ragioni per le quali scegliere Windows 8.1 al posto di Ubuntu 14.04 che poi la versione che uscirà in aprile sarebbe un grosso errore ecco vi riporto qui e vi lascerò in descrizione del video i cinque motivi stringatamente tradotti in italiano perché l'articolo è in inglese ma usando Google Translator non c'è problema se avete problemi in inglese non ci sarà problema a capire cosa c'è scritto nell'articolo basta che lo fate tradurre da Google e voilà comunque ecco queste sono le cinque ragioni stringate quindi le solite non è che ci sono cose eclatanti però è giusto per ribadire che come si sa Windows 8.1 non è un sistema operativo sicuro non è un sistema sicuro le applicazioni valide per Windows solitamente non sono gratuiti bisogna pagarle anche care non è open source un'ovvietà lo sappiamo e Windows 8.1 ormai non è più la piattaforma che ha il monopolio nell'ambito del gioco ma con l'arrivo anche di Steam su Linux ormai Windows come PC intendo non dico come Xbox o queste cose qui specifiche ma come PC probabilmente come sistema operativo PC non ha più da tempo non detiene più da tempo il monopolio nemmeno nell'ambito del gioco e quindi è sempre meno valida tra virgolette da quanto si dice in questo articolo la scusa dico tra virgolette perché a volte è un dato di fatto non è una scusa di dire devo tenermi Windows perché sennò non posso giocare ecco giusto per intendersi questo è quanto dicono fra le altre cose in questo articolo si può essere d'accordo o meno però giusto per concludere con questa ultima notizia per concludere questo video ecco come sempre il mio augurio è che il mio personale augurio è che mi sia interessato anche questo video o che perlomeno parte di questo video magari vi abbia dato lo spunto per approfondire un'eventuale decisione di abbandonare Windows per un punto o altra distribuzione Linux perché no e quindi con questo concludo vi saluto e vi attendo al prossimo video ciao ciao